sembra giunta al capolinea la storia d'amore tra ale lucia ferrari di amici 23 il cantante infatti avrebbe ricominciato a frequentare la sua ex fiamma lucia ferrari e il sono stati tra due degli allievi più amati di amici 23 e il fandom del talent di canale 5 li ha apprezzati ancor di più quando è diventato chiaro che la ballerina e il cantante sono diventati una coppia purtroppo dopo i primi rumors di una crisi sembra arrivata la conferma che il loro amore è giunto al capolinea amici 23 lucia e il non sono più una coppia gli indizi che lo confermano su ele lucia ferrari circolavano da tempo diversi rumors di una crisi tra loro erano scomparse dai social di entrambi le foto di coppia e anche nelle stories quotidiane era sempre più raro che i due fossero insieme già a maggio inoltre e il ha smesso di seguire lucia sui social ma è solo di recente che ha reso chiaro che tra lui e la ballerina è tutto finito con alcune stories sul suo profilo instagram infatti e il si è mostrato in compagnia della sua ex fidanzata margherita secondo molti fan inoltre e il avrebbe lasciato lucia per tornare con l'ex con margherita il cantante era fidanzato prima di entrare ad amici di maria de filippi e il loro rapporto si è deteriorato con la lontananza nel frattempo lucia ferrari anche se indirettamente ha mostrato cosa ne pensa di ciò che è successo con e il la ballerina non ha pubblicato nessun commento o post contro il cantante ma ha messo l'ikea un post in cui un fan la supportava consigliandole di pensare alla sua carriera perché è bellissima e piena di talento e perché è sempre stata troppo per il amici 23 lucia e il gli inizi di quell'amicizia speciale che ha fatto sognare i fan nella scuola i due erano sempre stati molto vicini e lucia era stata la sola insieme a malia ad aver votato a favore del rientro del cantante nella scuola ospite avverissimo ad aprile poco dopo la sua uscita da amici 23 lucia ferrati ha affrontato con silvia toffanin la natura del rapporto speciale che è nato con el o all'interno della scuola il turbolento cantante di anna pettinelli ha raccontato avverissimo di aver avuto un'amicizia speciale con la ballerina nella scuola di maria de filippi senza volersi sbilanciare inoltre all'epoca sono spuntate sui social diversi scatti che hanno confermato il flirt tra i due ex allievi a silvia toffani lucia ferrari ha confermato le parole di ale e ha definito il loro rapporto un'amicizia speciale specificando che ora che sono entrambi fuori dal talent si vivranno nella vita di tutti i giorni e vedranno se potrà diventare altro non voglio essere impulsiva ma siamo simili la nostra è un'amicizia speciale ora che siamo entrambi fuori si vedrà e scopriremo cosa diventeremo nella vita di tutti i giorni da lì diversi mesi di idillio amoroso con i due allievi che documentavano la loro vita sentimentale con foto e stories sui social fino ai rumors di una crisi tra i due e alla conferma della rottura definitiva